E' una nel finale di Papa Petro. Sentiamo Messina, credo molto soddisfatto. Gratulazioni prima di tutto, è più facile parlare dopo questa vittoria. E l'intervista al coach che perde la partita è una punizione che dovrebbe essere... Bisognerebbe pensare un po' di più a quello che... Dice, penso che faremmo una cosa migliore, forse se fossero un po' diverse le intervista in post partita ai coach che hanno perso. Chiaramente si riferisce alla sua risposta dopo la gara con l'Alba Berlino.